Stamattina ho votato no. Ho votato no alla risoluzione della maggioranza che stabiliva di dare mandato a Conte per portare al Consiglio europeo un sostanziale via libera alla riforma del MES, il meccanismo europeo di stabilità. Perché ho votato no? Perché ritengo che il programma del Movimento 5 Stelle, quello su cui sono stato eletto assieme a tutti quanti i parlamentari del Movimento 5 Stelle, sia un programma chiarissimo nel dire no al MES, addirittura si proponeva di smantellarlo. Un programma tutto costruito contro l'austerity che ha condizionato le politiche europee di questi anni. E su questa base sono stati sconfitti gli altri partiti che invece sono stati compartecipi della stagione dell'austerità, dei tagli, della riduzione della funzione dello Stato, del precariato eccetera. Quindi per me è stata la cosa più coerente con tutta la linea che ho sempre seguito, votare no. Adesso vediamo cosa succede. Il Movimento 5 Stelle sostiene, dal punto di vista della maggioranza dei suoi parlamentari, che il dire sì a questa riforma non significa che poi il MES sarà attivato in una fase successiva. Io credo che il momento della verità arriverà molto prima, ad esempio imponendo che non si faccia una ratifica parlamentare del MES, anche se così la strada diventa insalita perché è stata fatta una scelta che porta a essere molto più deboli sul piano negoziale. È una partita molto delicata sulla quale non basta fare testimonianza, bisogna fare il possibile per vincere la battaglia, perché l'attivazione del MES o anche la sua semplice ratifica cambia la natura del debito pubblico dell'Italia in relazione a quella degli altri paesi. Significa che i paesi con un debito pubblico più alto, e l'Italia è fra questi, saranno soggetti a una maggiore condizionalità, a una maggiore ricattabilità e si potrebbero attivare delle clausole per le quali la via maestra sarà poi quella della ristrutturazione del debito, cioè quello che è accaduto in Grecia. Evitare questa strada credo che sia un dovere di chiunque senta un minimo di senso patriotico per il paese in cui abitiamo. Continuerò questa battaglia e spero di poterla continuare con sempre più persone che facciano pressione nei confronti di chi invece ha scelto una via che ad oggi ritengo errata.